Ho sacro rispetto dei medici di Taranto, del personale sanitario tutto. Ciò che non funziona, ciò che davvero è penosa è l'organizzazione gestionale, amministrativa, che certamente parte dai vertici, parte dalla regione e vorrei capire alcuni gravi deficit che ci sono. Mi trovo qui dinanzi al distretto sociosanitario della Salinella, distretto sociosanitario della ASL, perché i cittadini mi hanno sottolineato delle gravi carenze che non riguardano soltanto questo distretto, ma in generale la medicina territoriale di Taranto. Sono andati in pensione due neurologi, è andato in pensione uno psicologo e non sono stati sostituiti. Quindi in tutto il territorio tarantino la medicina distrettuale, il servizio distrettuale della ASL è scoperto per quanto riguarda la neurologia e per quanto riguarda la psicologia. E tra un po' anche un oculista andrà in pensione e non sappiamo se sarà sostituito o rimarrà un altro vuoto, come in questo caso una situazione gravissima. Mi rivolgo in particolar modo a te, caro Enzo Di Gregorio, consigliere comunale, consigliere regionale del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Puglia. Caro Di Gregorio, voi avete fatto l'inaugurazione in pompa magna per la figura dello psicologo di base alla faccia. Ora la medicina distrettuale di Taranto non ha più psicologi. Ma ci sarebbero altre cose da dire. Mi rivolgo, massimo rispetto per lei, a lei, dottoressa Ronzino, che è il direttore di tutti i distretti di Taranto. Direttore Ronzino, io le sto manifestando, sto evidenziando queste grosse carenze, così come anche da un punto di vista logistico, direttore Ronzino, non le ronzano, mi scusi il bil così, l'assonanza, le orecchie, quando vediamo anche delle scelte incomprensibili, proprio logistiche. Come si fa a mettere qui, in via alla Salinella, al distretto della Salinella, il reparto di fisiatria, di geriatria, di neurologia, quando c'erano i neurologi, prima che andassero in pensione, al primo piano e non tenerlo magari a pian terreno, perché stiamo parlando di persone che hanno difficoltà anche nella deambulazione. Così come, dottoressa Ronzino, non le ronzano le orecchie rispetto a certe lagnanze dei cittadini disabili, mi è stato detto che praticamente qui al distretto sociosanitario della Salinella non sarebbe consentito il transito, il parcheggio delle auto con disabile a bordo e quindi mi è stato detto, e lo verifichi dottoressa Ronzino, che i disabili non possono entrare con la macchina e quindi con l'auto e quindi non potendo entrare, le difficoltà che già Madre Natura purtroppo ha dato con questi disservizi aumentano. Bene, allora Enzo Di Gregorio, tu devi dare risposte al territorio, perché è molto facile sventolare le bandiere del Partito Democratico, lo ripeto, quando avete fatto l'inaugurazione in Pompamagna per la figura dello psicologo di base. Questi problemi Di Gregorio ci sono, lo sai e te lo sto evidenziando che la medicina, lo sai o non lo sai, me lo devo domandare, la medicina distrettuale non ha più neurologi e psicologi? Non dici niente Enzo Di Gregorio? Questa sarebbe la buona sanità targata emiliano? Beh, io vi sto rappresentando queste situazioni perché non pretendo risposte io, ma pretendono risposte i cittadini, così come l'utenza, pretendono risposte gli anziani, i disabili, come per esempio, come per esempio un'altra situazione che io ho già condannato per quanto riguarda il padiglione Vinci, è assurdo tenere per le prenotazioni al CUP la gente all'esterno sotto una specie di gazebo aperto, neanche fossimo in un bar o in una pizzeria. La gente, gli anziani, non devono stare al freddo, o al caldo sotto il sole coccente d'estate, ma si devono stare all'interno per poter prenotare in grazia di Dio, visto che le prenotazioni telefoniche fanno cacare, fanno cacare, scusatemi la volgarità, perché le linee sono sempre intasate ed è impossibile, materialmente impossibile prenotare. Allora, datevi una bella regolata e ho fatto riferimento a Enzo Di Gregorio perché parliamo di un tarantino consigliere comunale regionale, peraltro e soprattutto vicepresidente della commissione consigliare regionale sanità. Beh, vi ho detto queste cose, ora attendo risposte, attendo risposte dalla politica, perché sono un consigliere comunale e pretendo risposte, ma anche da cittadino, pretendo risposte dalla ASL. Vedremo se ci saranno.